Visitare e assistere i malati, andare a trovare chi è in prigione, sono opere di misericordia indicate dal Signore che ci invita ad un gesto di grande umanità, la condivisione. Così Papa Francesco, nella Catechesi dell'Udienza Generale sul tema Visitare i malati e i carcerati, nella quale ha ricordato i tanti incontri di Gesù con gli ammalati. Malati e carcerati, ha spiegato, vivono una condizione che limita la loro libertà, ma Gesù ci ha donato la possibilità di essere liberi che viene dall'incontro con Lui. Non lasciamo sole le persone malate, è stato l'appello di Papa Francesco. Non impediamo loro di trovare sollievo e a noi di essere arricchiti per la vicinanza a chi soffre. Lo stesso vale per i carcerati. Qualunque cosa un carcerato possa aver fatto, ha aggiunto il Pontefice, rimane pur sempre amato da Dio. È troppo facile lavarsi le mani affermando che ha sbagliato. Un cristiano è chiamato piuttosto a farsene carico, perché chi ha sbagliato comprende il male compiuto e ritorni in se stesso. Per contrastare le diverse forme di giustizialismo a cui siamo sottoposti, ha munito il Papa, nessuno dunque punti il dito contro qualcuno, tutti invece rendiamoci strumenti di misericordia con atteggiamenti di condivisione e di rispetto. Penso spesso ai carcerati, penso spesso, li portano il cuore. Mi domando che cosa li ha portati a delinquere e come abbiamo potuto cedere alle diverse forme di male. Eppure, insieme a questi pensieri, sento che hanno tutti bisogno di vicinanza e di tenerezza, perché la misericordia di Dio compie prodigi. Quante lacrime ho visto scendere sulle guance dei prigionieri, che forse mai in vita loro avevano pianto. E questo solo perché si sono sentiti accolti e amati.